grifema ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9 su 10 risulta al momento essere il più venduto online le sue principali funzionalità sono facile da montare facile da pulire ottimo rapporto qualità prezzo leggero robustezza stile se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione di questo prodotto dionese è di 9.2 voti su 10 al momento è il più esclusivo di questa selezione le sue peculiarità sono facile da montare leggero facile da pulire robustezza ottimo rapporto qualità prezzo stile il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo di questo articolo di grifema è di 9 su 10 risulta al momento essere il più desiderato i punti di forza sono facile da montare ottimo rapporto qualità prezzo leggero comodo stile robustezza se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video